E' passata una settimana dall'elezione di Sergio Giordani a sindaco di Padova e ancora la giunta non c'è. Il neosindaco che si proclama civico ma che deve fronteggiare le richieste di partiti e liste deve destreggiarsi in un difficile equilibrio tra le molteplici ed eterogene forze che lo hanno sostenuto. Un lavoro non semplice, mettere d'accordo tutti a creare i principali mal di pancia. Nella grande coalizione c'è lo schieramento centrista di area civica. Nelle scorse ore è stata anche convocata una riunione d'emergenza. Il gruppo vuole un assessore uomo, ovvero uno dei primi due più votati. Andrea Colasio scalpita per la cultura, mentre il nome di Antonio Foresta viene indicato come possibile presidente del Consiglio Comunale, un ruolo che però rivendica anche coalizione civica. Chi invece deciderà nelle prossime ore i nomi da proporre a Giordani è coalizione civica che si riunisce in assemblea. Sono state individuate delle deleghe di competenza dell'area di coalizione civica che vengono comunicate. Questa sera in assemblea vengono presentate queste deleghe e viene aperta la possibilità per gli aderenti e per i non aderenti di candidarsi al ruolo di assessore. A Lorenzoni, già vice sindaco, spetterà quasi sicuramente la delega alla mobilità. Coalizione punta inoltre all'assessorato al sociale e a quello all'ambiente. Poi c'è il PD che reclama tre assessorati. Se Giordani riuscirà a far fronte a tutte le richieste si potrebbe conoscere la giunta entro fine settimana.